Voi siete fortunati, tutti, nessuno escluso, poiché vi trovate qui, nella scuola di Quinto Lentulus Battiato, procacciatore dei migliori gladiatori di tutta la Repubblica. Sì! Nei giorni che verranno, provate il vostro valore. Dimostrate di essere più che degli schiavi, più che degli uomini. Fallite e morirete. L'alternativa a essere qui è il lavoro forzato nelle miniere. Se sarete all'altezza, avrete l'onore di far parte dei miei titani. Battiato! Battiato! Battiato!